Andrea Agresti presenta le Iene Quiz Show Un gioco a quiz dove si vincono i gadget delle Iene Vincono i premi concorrenti che rispondono in maniera esatta alle domande del conduttore Prima di iniziare il quiz il conduttore sceglie tra il pubblico un notaio Le domande hanno come oggetto la storia e i personaggi del programma delle Iene Quando parte la prima domanda chi tra il pubblico conosce la risposta deve alzare la mano Il notaio deve individuare colui che per primo ha alzato la mano Lui sarà il primo concorrente Il concorrente sale sul palco e risponde Se sbaglia viene cacciato via dal conduttore e si passa al concorrente successivo Se la risposta è esatta sceglie la busta premio Apre e si porta a casa il gadget che trova dentro Il quiz va avanti fino al completamento delle domande Le Iene Quiz Show